E' stata celebrata ieri sera una santa messa per festeggiare il sessantesimo di sacerdozio di Don Dario Torboli, missionario diocesano di 85 anni. Don Dario, da 45 anni, è missionario nel nord-est del Brasile, nella parrocchia di Porta Legre, un territorio molto vasto che occupa una superficie di 940 km2. Il 29 giugno ha ricordato il sessantesimo di anniversario proprio a Porta Legre, con una grande festa alla quale hanno partecipato migliaia di persone, che hanno voluto ringraziare il parroco che da così tanti anni li accompagna nella loro vita, povera ma ricca di spiritualità. Alla cerimonia, che è stata concelebrata da molti sacerdoti, hanno preso parte anche tutti i fratelli di Don Dario. Sentiamo l'intervista. Com'è cambiata Porta Legre negli anni in cui è stato parroco? Il cambiamento è grande, è grande, sai? Perché all'inizio erano tutti poveri, non c'era l'aiuto del governo, non c'era niente. E dopo un po' alla volta anche noi ci siamo date le mani per aiutare, che noi abbiamo qualche esempio per aiutare i lavoratori, i contadini. Perché io sono figlio di contadini e allora, che dicevo anche questo, e le sta per fare una grande amicizia, le sta questo di aver detto che mi sono contadino e che ogni tanto vago a lavorare con loro fuori. Felicissimi, felicissimi, cosa vuoi, cose semplici. A quanto ha influito la Chiesa nel cambiamento del Paese? L'esempio, ecco, l'esempio è la insistenza. Penso che il Brasile ha avuto dei santi sacerdoti, dei santi vescovi, che hanno cercato in tutte le maniere. E penso che qualche cosa sia riuscito. Se cose si sono maturate, perché adesso il Brasile è un po' più forte, un po' più avanzato, è stata proprio questa collaborazione. Tutti, ma anche la Chiesa, anche. No, prima, quando era la rabbia, no? I preti, niente. No, no, no. Anche i sacerdoti sono di esempio e ci aiutano molto, molto. Don Dario, non manca mai di ritornare a Massone tutti gli anni per la vendemmia. Questa è una tradizione. Don Dario, non manca mai di ritornare a Massone tutti gli anni per la vendemmia. Questa è una tradizione. E le spanzate le somiche che ho mangiato. Ma grazie al cellule è andata bene. Ecco, sì, sì, sì. E vediamo, da qui in avanti, sono 85, adesso vedremo cosa il Signore Dio ne stabilisce, che bisogna aspettare gli ordini che vengono dall'alto. Com'è cambia Massone in 85 anni? Ecco, sia le case, sia le famiglie. Ecco, è uno stile di vita che noi neanche potevamo sognare. Oggi se lo vede nei bambini, se lo vede nella scuola, se lo vede anche nella gioventù. E quei che hanno una certa età, cosa vuol? Bisogna accettare tutto quello che succede oggi. Lo sviluppo è stato molto grande e noi ci congratuliamo. E noi non siamo contrari a niente, ma bisogna anche avere una certa calma nelle cose. Non esagerare, eh? Non esagerare, ecco.